Ciao a tutti ragazzi, sono la Nazio 6 e oggi sono qui in questo nuovissimo video della carriera dell'attore Vi dico che c'è stata un'assenza della carriera dell'attore Mentre la scuola abbiamo un sacco di verifiche in questa settimana, interrogazioni eccetera eccetera Ma anche perché io oggi mi sono messo, vabbè facciamo l'episodio Infatti vedete che abbiamo anche venduto di bala, 122 milioni Io mi sono messo, vabbè, registriamo l'episodio Ed era tutto cancellato, quindi ora sto registrando appena ho finito di fare tutte le cose Ho provato solo il pensiero di prendere Bail C'era già qualcosa, vabbè, noi ci vediamo direttamente sul campo del gioco come sempre E noi ci vediamo sul campo del gioco, ciao! Ok ragazzi, ci siamo con il nostro CR7 Siamo in Sestegno per la Supercoppa Italiana Comunque è fatto benissimo, eh E comunque è ritorno anche di Higuaina Ok, RONDI Mi sono scosta trepartista Quadrato, Ronaldo Dove l'ho scosta? Il Nilsson L'ho provato contro il mio fratello, mi è piaciuto un sacco Fatti ecco perché l'ho comprato Madonna che culo Cazzo d'altro Chiellini Fa staccare Mentre ho nelle schede in alto a destra La partita frustrante della Del Juve Valencia Quadrato Guarda, per Son Ancora Son Reina La Bloc Che Bloc Come direbbe 5-6 No Non c'è No Non c'è No Ma l'ultima vita mia, la tensione è Guaina, Guaina Scegli No Ricorra la fatta decimene, non è possibile Magari, ricorra Sti Bobby Ricorra Sti Bobby abbi che culo la mia ragazza per l'ora sono perché e no sono castiglie col bagatone della situazione si dice che fanno bello lì si banca e l'uovo con il sonno salta 1 non c'è stato anche questo ma non è andato tim alex ditemi poi chi dovrei comprare secondo voi nella carriera allenatore a parte quelli proprio a parte Griezmann, Messi quelli a cifre troppo alte ditemi chi comprare non so un esterno un centrocampista con le palle a parte Pjanic adesso mi spiegate Montelibro con il controllo orientato alleluia quando ti venderei quanto ti venderei 18 non ti saresti mai usato a vendere l'ascosto 19 vai alex oh bagatone lo prende quadrato va completamente in porta va in porta quadrato ma non il pallone purtroppo bravo chiello sonno se ne va da quella parte lì madonna mia qui io svanco il sistemone oppure c'è qualcosa che non vuole piangici più l'ascosto sonno pepe reina ma che passaggi fai quadrato ma tu dici più lascosto sonno se anche te è proprio il servizio militare proprio c'è Gimenez sonno sonno madonna cosa ho preso pepe reina scusate ho tolto il tocco del confio mi dà fastidio prende per sonno madonna mia ho trato bravo pochero un rigore un rigore gentilmente offerto dall'arbitro come il pane madonna 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 sono sottopi qui sì va bene quando qui c'è my family speak dai ma ma co quadrato mmm finisci anche il primo tempo cinque 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 vabbè cerchiamo di arrivare i tuoi ragazzi secondo tempo che inizia colmina di baltacchi si sopravvongo più giocattico però ci occupo con rispetto agli altri anni perché ora c'è anche fortemente fa mi ha avuto un malore solo a vedere quella rovesciata vai cielo è normale che ci si fuori in tiro del genere ho visto so da nascosta fai da glas corri vorti venite allora togliamo un attimo da nascosto di t qui mettiamo skilberna ma assolutamente riorganizzarsi hanno bisogno di energie anche psicologiche ma questo match c'è il recupero di alexandri oggi ha il suo doppio assoluto possiamo fare un bilancio mario continuat 4 4 4 9 del di 1 2 e 3 3 4 4 perfetto son quadratoli canse federico brandeschi che ha avuto anche diverse offerte non è solo testa di muschi foro 4 c7 federico brandeschi ronaldo addirittura a teglie sanno comprati questi qui questi pieni di soldi quel bagatone di teglie testa no di ball city cioè come vi avevo detto ovviamente che è voluto veramente io l'ho offerto io perché quindi ma 122 milioni per dibala no ah si è vero che la prima è col che ero prima della juju che stasera sto registrando il sabato 3 è bagaioco 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 ha segnato ha segnato bagaioco ma me lo volete spiegare che ha segnato bagaioco oh bernardeschi se ne va ronaldo madonna madonna ma che passaggi fai oh la stupida baby ciao no non caglienoglu sembra un'altra cosa bella madonna madonna ti taglio le vene io ti taglio le vene quando dici prima che un gioiello e poi taglio le vene allora ma tu dici si però non è che mi devi farla finta madonna che si passava con la palla si vabbè mia nonna bacca io un uantello Ronaldo Ronaldo no no eh tanto che lì se non facciamo un gol adesso non faremo mai più gimenez c'è dieci parate ha fatto non si può revier la partita quindi finirà così ma ragazzi io così devo dire questa è stata una sconfitta veramente brutta sconfitta immeritata veramente immeritata immeritata perché basta basta c'è dici ti importa tre io ho fatto un gol gli altri ne hanno fatti tre cioè due però va bene ragazzi io spero che questo episodio vi sia piaciuto non per il gioco che ho espresso e beh poi lui ha tirato però la paletta era anche già fuori vabbè discussioni poi io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale di CemiD Studios 06 e SDS by Juvie ok ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao